Vincenzo Porro, secondo allenatore di Alto Tevere e San Giustino, primo punto in classifica, anche se contro Latina è arrivato in una sconfitta, diciamo che fino all'ultimo però si è sperato nel grande colpo. Sì, siamo riusciti a smuovere la classifica nonostante abbiamo un inizio di campionato, un inizio di calendario abbastanza complicato affrontando le compagini più forti della nostra categoria. Abbiamo provato a vincere la partita, ci siamo andati vicinissimi, penso che soltanto alcuni episodi hanno poi condizionato il risultato a favore di Latina. Prevale la soddisfazione per il primo punto oppure c'è un po' di rammarico perché si poteva davvero conquistare la vittoria? Partendo dal presupposto che siamo molto contenti di quello che i ragazzi hanno fatto vedere durante la partita, della prestazione. Abbiamo vissuto momenti di difficoltà soprattutto all'inizio della partita. Siamo stati credo molto molto bravi a rimontare la partita sotto 2-0 giocando non benissimo il secondo set. Siamo riusciti a tirar fuori quel carattere, con la personalità che caratterizza questa squadra e che ha fatto sì che la partita quasi quasi si potesse vincere. Abbiamo giocato gli altri parziali con la massima determinazione, con la massima volontà di portare la vittoria alla fine a casa. Quindi penso che noi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, quindi quello che è stato fatto di buono, quello che i ragazzi hanno dato per tutta la partita senza mai mollare. Cresciuti molto in battuta e a muro? Sì, soprattutto a muro direi. In battuta stiamo migliorando, dobbiamo ancora crescere, ma d'altronde abbiamo una squadra con tanti giovani, con tanti ragazzi, ha la prima esperienza nella categoria di A1 e ha la prima esperienza in Italia. Quindi sappiamo che c'è tanto da lavorare, ma abbiamo anche la consapevolezza di avere un ottimo materiale umano, un ottimo atletico. Domenica ancora il Palachemono contro i campioni del mondo di Trento, altra gara sulla carta proibitiva, però credo che ce la metterete tutte. Sì, decisamente sulla carta proibitiva affrontiamo la squadra più forte al mondo degli ultimi anni, l'ha dimostrato ampiamente sul campo. Noi da parte nostra abbiamo la consapevolezza di non avere niente da perdere e siamo molto stimolati da questo tipo di scontro. Veniamo da una serie di partite sulla carta proibitive per noi, facendo delle buone prestazioni e siamo fiduciosi di fare anche una buona prestazione contro Trento. Dovesse togliere un'arma a Trento, quale sceglierebbe? Eh, togliere il servizio, perché il loro servizio è veramente importante. Ultima cosa, mancherà a McIbin e per lui un infortunio che lo terrà lontano dai campi per qualche tempo? Sì, abbiamo avuto questo infortunio in allenamento in settimana e adesso è ancora a riposo, sta facendo del lavoro differenziato con me nella parte atletica e speriamo di poterlo recuperare per le partite con Perugia.